Sono Alberto Ciullini, candidato presidente del Municipio 2 per la coalizione di centro-sinistra, quella composta dal PD, da Sinistra per Milano, dalla Lista Sala e da Italia dei Valori. Siamo impegnati soprattutto per far rinascere i vecchi quartieri e i vecchi borghi della Municipalità 2, che è caratterizzata proprio dalla presenza dei vecchi comuni, Greco, Precotto, Turro e Crescenzago. Non a caso ci troviamo proprio oggi qui in Piazza Costantino, sotto la sede di quello che era il vecchio municipio, che grazie a un'operazione fatta nell'ultimo periodo dell'amministrazione, che sta andando a chiudersi, è stata riacquistata dal Comune perché era stata messa in vendita dal sindaco Moratti. Sarà un'occasione eccezionale per far rinascere una piazza, per far rinascere una casa del quartiere, questa è la nostra idea, la sede dove possono incontrarsi i cittadini per fare iniziative diverse, per trovarsi, per accrescere la socialità e far rinascere un senso di appartenenza a una comunità comune. Questo è proprio uno degli obiettivi principali del mio impegno per i prossimi cinque anni.